Sembra che il sorveggio può essere fatto con qualche cosa sia comestibile. Allora, no, dice, oh, faccio un sorveggio di alcaccioffra, posso fare? Claro, è comestibile, posso fare. Si vende un sorveggio di alcaccioffra? Non sei, adesso penso che, a meno che non stiamo creando un evento particolare, ma, junto con un restaurante, possiamo creare un sorveggio particolare per poi fare una combinazione con un prato o qualcosa di particolare.